Ciao a tutti amici, tante volte facciamo delle cose complesse ma c'è anche chi si avvicina tra le prime volte al programma e quindi è giusto far vedere anche delle cose che sembrano più semplici e in realtà magari per chi appunto non le ha mai viste non lo sono. Oggi voglio far vedere come si collegano i nodi fra di loro, come si richiamano e perché alcuni nodi si possono collegare e altri no. Quando entriamo in Fusion, questo l'ho fatto vedere tante volte, si fa una New Fusion Composition dalla Edit Page e clicchiamo su Fusion, ci troviamo in quest'area dei nodi. Troviamo già un primo nodo in quest'area che è il Media Out, che cos'è? è la nostra uscita, cioè è la Fusion Composition che abbiamo aperto sulla Edit. Tutto quello che verrà inviato a questo nodo andrà a finire sulla Edit Page. Se non colleghiamo nulla è inutile far tanti nodi perché non abbiamo l'uscita verso la Edit e questo è abbastanza chiaro. Poi vedete che i nodi hanno un triangolino che è un ingresso, infatti vedete che se stiamo fermi leggiamo Input e un quadratino che è un'uscita, infatti se stiamo fermi vediamo Output. Qua sopra abbiamo alcuni nodi tra i più usati. Tutta questa prima parte, fino a qua sono nodi, diciamo 2D e per la correzione colore e per la trasformazione, le maschere. Qui abbiamo la creazione di poligoni, poi passiamo in un'area che è 3D perché abbiamo le particelle e abbiamo i nodi per i 3D, per creare delle forme 3D, il testo, le telecamere eccetera. Quindi bisogna fare attenzione a non unire nodi 2D con nodi 3D perché non tutti si possono intercambiare. Comunque la cosa di oggi era questa spiegazione come unire fra di loro i nodi. Ad esempio prendo un background, lo prendo da qua, lo posso prendere da qua e trascinare con un drag and drop nell'area nodi. Lo rilascio e vedete anche questo nodo ha un triangolino in ingresso e un quadratino in uscita. Però vediamo che questo triangolino è celeste mentre questo è giallo. Infatti sono due cose diverse perché i nodi possono avere più ingressi. A seconda poi ci sono nodi 2D o 3D, ma non importa. Adesso rendiamo le cose semplici. Adesso qui non abbiamo niente. Questo è un background, quindi un colore. Il colore è nero. Lo vado a far rosso alzando semplicemente qua. Per farvi vedere, ora lo collego all'uscita. Prendo da questo quadratino che è la sua uscita, clicco sopra il quadratino con il tasto sinistro mouse e trascino, faccio un drag and drop tenendo premuto il tasto sinistro. Vedete che si allunga questa linea. È il cavo, diciamo, elettrico di collegamento tra i nodi. Arrivo fino al triangolino. Vedete che il mio nodo si illumina, come dire, oh, mi sta per arrivare qualcosa. E lo rilascio sul triangolino. Lo mollo, mollo il tasto sinistro e ora è collegato. Avete visto che come ha mollato si collega. Quando noi andiamo a collegare altri nodi, ci sono varie maniere per farlo. Ad esempio, facciamo un'altra prova. Prendiamo un testo, e questo qui, la lettera T è un testo. Qua scriviamo, ad esempio, ciao. Quando unisco due nodi, ho bisogno di un terzo nodo che si chiama merge e serve appunto, vuol dire unione, l'unione di due nodi. Allora, io posso prendere il merge e vedete che ha tanti triangolini. Poi in altri tutorial lo vedremo, ma ho già spiegato anche queste cose. Prendo il triangolino, il quadrato, l'uscita dal testo e la butto su un triangolino del merge. Quando non so cosa fare, su quale triangolo metterla, la lascio nel nodo. Di solito Da Vinci si arrangia a capire dove la deve buttare. Lo rilascio e vedete che infatti Da Vinci l'ha agganciato sul triangolino giallo. Però adesso c'è un problema, questa linea va in uscita lì. Come faccio a agganciarmi? Ci sono due soluzioni. Una più lenta, che è quella manualmente di sganciare. Vedete che questa linea cambia colore quando mi avvicino, diventa gialla e blu. Io vado qui sul triangolino, clicco tasto sinistro, sgancio questo cavo elettrico, chiamiamolo così, e lo vado a agganciare al triangolo. Lo rilascio, eccolo collegato, e poi ora lo farò proseguire. Cosa ho fatto? Vedete ho unito questi due nodi che entrano dentro a questo terzo che serve appunto per unirli. Perché fra di loro questi cavi non si possono collegare se non hanno una scatola, diciamo, di derivazione. Ecco, facciamo sempre il discorso elettrico. Quindi adesso da questa scatola di derivazione, da questo quadratino, posso uscire finalmente e andare di nuovo all'uscita. E in uscita avrò il mio background rosso più il testo. E voi dite background che vuol dire sotto. Dovrei sganciare i cavi e ricollegarli. Ecco, e invece di sganciare i cavi e ricollegarli sui triangoli giusti, possiamo semplicemente premere CTRL T. E come vedete, si sono invertiti i triangoli e finalmente vediamo la scritta ciao in uscita. Adesso proviamo ingrandirla. Quindi abbiamo due cavi che entrano dentro una scatola. Questa scatola, in base ai triangoli che entrano, decide se il livello va sopra o va sotto. E possiamo invertire i livelli con CTRL T. Un altro sistema per collegare una scatola, adesso io lo sgancio, è quella di, ci sono più manieri. Una volta collegato questo quadratino in ingresso col mio triangolo, prendo la scatola e la porto a metà del cavo. Premendo SHIFT, vedete che diventa di nuovo gialla blu. Lo rilascio e l'ho collegata. Però adesso devo rifare il collegamento qua. Quindi quando avvicino un nodo a un cavo, lo posso connettere con SHIFT, sempre che sia un nodo che si possa collegare. Facciamo una prova con un altro merge, lo tiro giù da qua. Premo SHIFT, lo avvicino, vedete che cambia colore e lo rilascio e si aggancia. Posso anche sganciarlo nella stessa maniera, invece di fare così e sganciare i cavi e separarlo, posso prenderlo, sempre premendo SHIFT, lo trascino fuori e vedete l'ho sganciato senza interrompere il cavo. E ecco qua questa operazione. Con SHIFT stacco le scatole di derivazione, diciamo così, senza interrompere il cavo. Se no, come sempre con SHIFT, le posso rimettere. Un altro modo è quello di unire dei nodi che hanno bisogno di una scatola di derivazione, di un merge che li unisce. Quindi ad esempio un testo a un background deve per forza andare attraverso un merge. Se io prendo l'uscita del testo e la porto sul quadratino, vedete sempre che si illumina il nodo, rilascio. Ecco, attenzione, ora mi è entrato in un altro ingresso che si chiama maschera. Ma se faccio giusto, si crea automaticamente la scatola di derivazione. Ecco, dopo la prossima volta parleremo anche dei triangolini maschera. Adesso questo è un breve tutorial e quindi ci fermiamo qui. Quindi abbiamo capito che tutti i nodi vanno uniti con questi cavi e che questi cavi si tirano semplicemente prendendo dall'uscita col tasto sinistro e trascinando. Si rilasciano sui triangoli. Si possono sganciare prendendoli o dall'ingresso, dal triangolino, e anche, come avete visto che ho appena fatto adesso, posso tirare più cavi. Quindi questo cavo potrei collegarlo qua. Potrei avere un altro nodo, ancora, che accetta un ingresso e tirarlo anche qua. Quindi da un quadrato posso anche tirare più uscite. Vedete, anche qua posso fare così. Attenzione, quando non c'è una scatola di derivazione, un merge, avete visto cosa può succedere? Che se questo è un ingresso che accetta solo un segnale, automaticamente sgancia l'altro. Quindi, stessa cosa di prima, posso usare un altro merge per andare a unire questi segnali e inviarli all'uscita. Anche se sto facendo dei pasticci che così non servono assolutamente a niente. Adesso non li ho collegati normalmente. Ultima cosa che devo dirvi, e poi vi saluto, è che qui avete i nodi principali più utilizzati. Se premete Shift e barra spaziatrice, entrate dentro a un elenco enorme che contiene tutti i nodi di Fusion. Ecco qua. E da qua potete attingere anche gli stessi che vedete qua. Perché ad esempio, se io scrivo background, ecco il mio background. Vedete che l'icona è la stessa. E poi, per averlo, bisogna fare aggiungi. E ecco qua. Troviamo un nodo. Come prima, però, posso crearlo direttamente collegato. Perché se ad esempio, clicco questo nodo, premo Shift, barra spaziatrice, e aggiungo un background. Aggiungi. Questo mi viene collegato direttamente. Vedete, si è collegato. Io sono andato a richiamarlo collegato. Se da qua chiamo un altro nodo di testo, per esempio. Ecco, testo. Attenzione che c'è anche 3D, quindi testo normale. Se faccio aggiungi, vedete che ha creato il Merge, l'ha collegato al discorso di prima. Lo fa anche in automatico, oltre che manuale. Lo fa anche una volta che ho selezionato un nodo in automatico. Bene. Sembra un po' di confusione, ma in realtà è una cosa abbastanza semplice che si capisce molto velocemente. E poi la prossima volta vediamo che cos'è il triangolo celeste. E invece nodi particolari come il Merge 3D, che ha solo due triangolini, ma che in realtà accetta tantissimi ingressi, a differenza del suo fratello 2D, che ne accetta solo due, più quello celeste che vedremo alla prossima volta. Invece questo 3D ne accetta. Vedete, io posso continuare a metterli e li accetta tutti, perché è un nodo particolare che servirà nel mondo 3D. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!